Siamo arrivati nel momento di retomando per l'impermove a scopolo Eccolo qua, su ragazzi, vostre di novità dell'anno Ok, trovo il mondo Ragazzi, adesso più delle occhie si aumenta Allora, su, 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 così Ok, ragazzi, tutto bene? Bionda, come va? Tutto a posto? Ragazzi, adesso facciamo una bella inversione di velocità ad alta velocità, va bene? Ragazzi, siete pronti? Eccoci qua, in arrivo il Vulcano Movie Un vortice eccezionale Ci siamo, siamo l'arrivo ragazzi Oh, la tua, la tua, la tua